eccolo qua abbiamo ripulito sia dentro che fuori una bella pulita l'ho rimontato tutto quanto dobbiamo solo portarlo dentro e provarlo ovviamente dobbiamo anche cercare un cavo video rf che qui manca a quanto pare insacchiamo tutta la roba ok sono rientrato in casa con il mio sacchetto del natale pieno di roba allora la console master system lo proveremo sia sì siamo nella tanna zombie il master system lo proveremo sul televisore di là quello dove ci ho collegato anche la playstation 2 la nintendo wii e dell'altra stanza quindi quella quattro terzi non questo a 16 noni che con la 16 noni è inadatto al retro che in questo è più che altro per vedere i diffuti questo qua ok ecco in pratica però ci manca il cavo rf potrei prenderlo su che sta nella scena lo scatolone il commodore 128 però non mi conviene perché sta in alto lo devo dire aggiungo ma diciamo il modo più facile per trovare un cavo rf dovrebbe essere quello di guardare sotto al letto dove dovrebbe esserci il master system 1 ricordate l'altra volta che non aveva il trasformatore però il cavo rf il cavo antenna radiofrequenza ce lo dovrebbe avere quindi andiamo ad aprire qua sotto quindi scusate se scavo un attimo nel tordino delle buste delle cose qua speriamo di non trovarci una testa mozzata a volte capita allora vediamo che è sta roba prei ma che sembra un libretto che è sta roba vediamo ah ma mi ricordo questo era una specie di mini rivista che game stop pubblicava anni fa dove c'erano tipo delle pseudo mini recensioni che in realtà erano solo un modo per pubblicizzare giochi in uscita vedi questo è il mitico little nightmares che però non è che costava davvero 10 euro in realtà costava 35 euro e lo pagai così lo pagai 35 36 euro non mi ricordo quanto e 9 euro se gli riporti due giochi indietro capito e quindi loro ci hanno sempre a guadagnare comunque comunque c'era pre e questo ci giocheremo magari è che ce l'ho su playstation 4 agents of may un gioco che veramente non ebbe per niente successo 0 proprio io ce l'ho ovviamente c'ho mai giocato però ok andiamo a cercare ulteriormente qui nel torbido sento una busta sta in fondo però aspetta come natura fuori tanto più di una busta in realtà c'è una busta sottile una pesante però prende quella pesata anche se io mi ricordo che mi ricordo che ma se sì se sei una busta gialla quindi può essere questa questa roba qua vi do questa qua è una pedaliera una pedaliera di un volante ma per playstation forse la pedaliera per playstation fatti il cavo che mi ha fatto sto cavo esterno no questa è per pc sto cavo mamma mia come eri tutto male ma di che io non mi ricordo dove aveva avuto sta pedaliera per i giochi per il volante anzi il volante se la pedaliera c'è il volante dov'è forse sta qua sotto vediamo un po ma questa è una bustiera no non è possibile quic shot questa è la mia amica 500 non ci posso credere no che stava qua sotto tutto il tempo cioè io sono diventato matto per trovarla sta cacchio di amica 500 ricordate diverse puntate fa cioè tutta la prima stagione della cantina infernale stavo cercando la cacchio di amica 500 e non si fanno da nessuna parte non stava né a casa mia né nella cantina infernale né nella soffitta la soffitta dell'incubo da nessuna parte c'era sta cacchio di cinque stava sotto al letto come cacchio è possibile si capite che anni che non c'è guardo sotto a sto letto ci potrebbero esserci anche delle creature oscure qua sotto lovecraftiana è meglio non guardare però cacchio no davvero ragazzi cioè impossibile io ero convinto che era andata perduta che qualcuno me l'aveva rubata che era data dispersa che stava ancora sotto nei miasmi e nei fumi e nei fanghi della cantina infernale ormai era persa per sapere invece no ce l'avevo sottoletta siete che questa fu una delle prime cose che io tanti tanti anni fa tolsi dalla cantina infernale e mi si qua sotto al letto ma non me la ricordavo sta cosa voi sapete che la mia memoria la mia memoria non funziona sempre bene allora questo è il drive esterno questo è il disco aspetta ma tiriamo tutto fuori intanto qua c'è il quick shot che era un jesse che molto da battaglia dell'epoca molto economico però spero funzioni ancora poi questo è il disk drive esterno bellissimo che era fondamentale per chi c'aveva una mica 500 perché i caricamenti altrimenti dovesse sempre a cambiare dischetto in parecchi giochi almeno questo ti alleviava un po la il cose un gioco era su dischi e due dischetti stavi a posto non dovevi più cambiare dischetto faceva tutto lui se invece era un gioco tipo monkey island che erano non chiarano due che erano 12 dischetti era comunque un problema però già era meno 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 pesante poi c'è un mouse che però terze parti non è ufficiale commodore facciamo terze parti eccolo qua non vale manco la pena di verlo bene ce l'avevo anche quello ufficiale ma era mezzo rotto poi c'è una scatoletta questa qui che era la scatoletta che serviva a switchare tra il mouse e il joystick del secondo giocatore perché dovete sapere che il mouse nell'amica va in porta uno quindi ci collegavi solo il mouse e se tu volevi giocare in due dovevi staccare il mouse e attaccare il joystick invece con questo tu attaccavi tutto insieme e in pratica se cliccavi sul mouse si attiva il mouse se premevi il fuoco sul joystick si attivava il joystick in automatico senza dover premere interruttori vari in realtà c'era un mio amico che sarà fatto una sua scatoletta interruttore artigianale che aveva tipo uno switch così tipo tac tac ok allora questo è il cavo video che però sembra molto arrugginito dubito che funzioni è questa qui c'è stata in cantina stamiche magari in una delle prossime puntate proveremo a riesumarla a vedere se si accende ma ne dubito fortemente questa andrebbe aperta prima di non bisogna fare come ho fatto io alla fine della scorsa stagione che ho provato ad attaccare le console alla corrente senza prima aprirle bisogna prima aprirle vedere se le piste sono ok se ci sono condensatori esplosi fare magari un rebolling di qualche saldatura salda saltata eccetera quindi questo qui l'amica intanto già e tanto l'abbiamo ritrovato e guarda un po qui che c'è l'adattatore rf cioè io alla mica ci giocavo in realtà con questo col cavo scart sul vecchio televisore che c'avevo nell'altra casa il mio mitico mi var che andava però la grande e questo qui invece l'adattatore rf per per adattare l'uscita del segnale al cavo antena che io non in realtà non l'ho mai usato l'ho solo provato una volta ma non l'ho mai usato su amica che però ci sarà molto utile perché ha legato all'adattatore rf il mitico amica 520 c'era anche un cavetto ecco lo vedete c'è anche un cavo rf che non ci servirà per il sì che master system ragazzi incredibile è stato proprio fatto sto ritrovamento insperato che io non non me lo sarei mai aspettato ovviamente far rifunzionare sta mica sarà un'impresa anche perché visto che è stata in cantina infernale anche se dovesse accendersi e funzionare poi difficilmente il disk drive interno funzionerà perché la muffa l'umidità avrà distrutto questo qui già è più possibile che sia salvato perché stava dentro il pluriball quindi un pochino se potrebbe essere salvato in realtà però questo è aperto vedete non c'è c'è il meccanismo a vista non c'è lo sportellino come altri altri disk drive più moderni quindi questo qui insomma è un po' esposto all'intemperie fortuna che c'era il sacchetto penso che si sia salvato comunque qua che altro c'è il mouse abbiamo detto io ce l'avevo il mouse qui ce l'ho ripulito tutto quanto l'ho ripulito e tra l'altro c'ho anche oltre questo gioco qui laser ghost che anche questo l'ho ripulito e c'ha i contatti buoni ho visto dentro i contatti su buoni quindi gli unici contatti che forse non sono buoni sono questi quelli interni allo sportellino qui del master system bisogna un po' vedere questi contatti come vanno ok e in pratica dobbiamo attaccare ma adesso ci abbiamo sia il master system che il cavo RF dobbiamo solo provare ad attaccarlo alla corrente crociando le dita io in realtà l'ho vista la scheda con me non c'erano condensatori esplosi roba esplosa non c'era quindi teoricamente potrebbe anche funzionare anche perché il master system nella cantina era messo conservato all'interno di una scatola di cartone assieme a tutti i giochi e accessori ovviamente la scatola di cartone inutile che ve lo dico nella cantina infernale è andata proprio disintegrata l'umidità la muffa tutto se la so proprio mangiata quella scatola era completamente distrutta quindi un pochino la ha protetto il master system ma non so quanto perché essendosi distrutta la la scatola potrebbe non aver completamente è un peccato perché guardate io c'ho una bellissima collezione di giochi master system alcuni anche rari alcuni anche bellissimi tipo master of darkness eccetera però mi consola il fatto che comunque c'è un gioco master system nuovo se ricordate in una delle puntate dell'unboxing vi ho fatto vedere che c'ho un una copia di sonic new old stock il primo sonic per master system che tra l'altro io non l'ho mai finito ho finito quello mega drive tutti quelli mega drive l'ho finito di sonic master system no non c'ho non ce l'ho giochicchiati ma non l'ho mai finito quindi quello sarebbe bello finirlo il primo sonic in versione master system che è diverso da quello per mega drive attenzione è molto diverso quindi è proprio un altro gioco e io ce l'ho perché l'ho preso in un lotto non l'ho preso su amazon ma era new old stock quindi l'ho pagato pochissimo ed era nuovo il master system cioè il sonic per master system quindi niente ragazzi prossima puntata lo colleghiamo alla tv e proviamo a giochi a giocarci a giocare finalmente a sto cacchio di laser ghost che voglio sparare un po' dei fantasmi dei mostri di armature e di macchine indemoniate perché io ricordo che all'epoca laser ghost mi pare che l'avevo finito mi pare che c'era pure più di un finale però non me lo ricordo bene mi pare che il finale era talmente infernale e marcio che faceva più paura del gioco stesso sto gioco è veramente inquietante e maledetto secondo me vabbè alla prossima puntata dove forse se ci dice bene giocheremo a laser ghost proviamo un po' a rimetterlo insieme sto master system alla prossima ciao ragazzi no ma sto trasformatore sbagliato per sbaglio ho preso quello del super nintendo perché questi due sono entrambi quello del super nintendo del master system sono entrambi i trasformatori terze parti non sono ufficiali non sono quelli originali uno c'è l'uscita a 9 volt e uno c'è l'uscita mi pare a 12 o 15 quindi a noi serve quello di 9 volt con l'uscita a 9 volt per poter far accendere il master system quindi ho sbagliato devo portare riportare fuori questo riprendere quell'altro e ripulirlo questo lavoro ripulito vabbè però la prossima puntata faremo tutto e andremo a cercare di accendere il master system che poi se ci penso bene io forse l'avevo provato il master system nella scorsa stagione non ha funzionato quindi funzionerà chissà e in quell'occasione aveva usato il trasformatore giusto che quello che sta fuori oppure quello sbagliato che quello qui che invece del super nintendo è chissà lo scopriremo nella prossima puntata grazie